La Guardia di Finanza stava monitorando il tratto di mare compreso tra le province di Catania e di Ragusa e lì ha rilevato i movimenti anomali di un peschereccio i cui componenti d'equipaggio stavano recuperando pacchi che galleggiavano in acqua ma che sono subito sembrati estranei all'attività di pesca. È stata avviata l'ispezione dell'imbarcazione e così i sospetti si sono trasformati rapidamente in certezze. I pacchi contenevano 540 kg di cocaina per un valore di circa 100 milioni di euro. La droga era confezionata in 18 colli da 30 kg ciascuno. Secondo le fiamme gialle il carico di cocaina sarebbe stato scaricato in mare da una nave cargo. I pacchi erano attaccati a galleggianti per evitare che si inabbissassero ed erano confezionati con attenzione e grande cura per evitare infiltrazioni d'acqua. Poi l'arrivo del peschereccio che ha recuperato ciò che era stato lasciato in mare precedentemente. L'intervento della Guardia di Finanza ha prodotto il sequestro dell'imbarcazione e l'arresto in flagranza di reato dei cinque componenti d'equipaggio. Si tratta di quattro italiani e di un serbo adesso indagati per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.